La tappa tricolore della Red Bull Cliff Diving World Series, che per la nona volta avrà luogo a Polignano a mare, a causa delle elezioni politiche 2022, sarà anticipata al weekend del 17 e il 18 settembre. Grande attesa per l'esibizione dei 24 diver, 12 uomini e 12 donne in gara, che spiccheranno il volo per incantare il pubblico con le loro acrobazie ed evoluzioni aeree. I riflettori saranno puntati su due atleti italiani in gara, Alessandro De Rose, permanent diver classe 1992, e la giovane Elisa Cosetti, wildcard classe 2002, prima donna italiana a prender parte al Red Bull Cliff Diving. Prima della tappa pugliese, nel mese di agosto, i due tuffatori si cimenteranno a Roma nei prossimi campionati europei di nuoto, dove per la prima volta sono stati introdotti tra le discipline in gara i tuffi dalle grandi altezze. Polignano a mare, cittadina roccata sulla costa pugliese, è una tappa iconica della Red Bull Cliff Diving World Series e grazie alle sue meravigliose acque, da anni si aggiudica la prestigiosa bandiera blu. La città è ormai la seconda casa di Alessandro De Rose, che proprio qui nel 2017 si aggiudicò la sua prima vittoria e dove ogni anno viene accolto dal calore e dall'affetto dei suoi abitanti. Come già annunciato, la tappa finale della tredicesima edizione della Red Bull Cliff Diving World Series 2022 si svolgerà a Sydney sabato 15 ottobre.